A Bitonto i contagiati salgono a numero 6 persone, 4 sono i dati ufficiali, 2 sono persone che si sono volontariamente dichiarate positive al tampone attraverso i propri cari che hanno pubblicato questa dichiarazione su Facebook. Se fosse vera ma non è confermata ufficialmente la notizia di due esponenti di forze dell'ordine, anche essi esposti al contagio, che non mi meraviglia perché gli operatori sanitari, gli operatori delle forze di sicurezza, gli agenti di polizia municipale che voi ci obbligate ad utilizzare anche per lo straordinario, per fare da babysitter ad ogni cittadino che si comporta male, sono tutti esposti. Un'altra diretta Facebook, un altro appello. Il sindaco di Bitonto non smette di tenere aggiornati i cittadini sulla situazione attuale rispetto al coronavirus. Al momento infatti sarebbero 6 i bitontini contagiati. Nei giorni scorsi si è registrato anche un decesso dell'anziano contagiato a Polombaio. Preoccupa il numero di persone asintomatiche e dei casi che potrebbero aumentare anche dopo l'ondata di rientri dalle regioni del nord. Il professor Pierbigilo Palco, epidemiologo della Task Force della Regione Puglia, ha confermato che le misure restrittive dureranno almeno fino all'estate e che la preoccupazione più grande resta non riempire gli ospedali pugliesi, rendendo difficile la cura dei casi e mandando al collasso il sistema. Vedendo il bollettino ufficiale della Regione Puglia della Protezione Civile, Bitonto è assolutamente nella media degli altri comuni, ma ripeto che queste statistiche non servono assolutamente a nulla, perché i dati che ci vengono offerti, i dati ufficiali che ci vengono offerti potrebbero essere tranquillamente ribaltati da una situazione reale che non possiamo conoscere per la questione asintomatici. Non è vero che il momento peggiore ce lo siamo lasciato alle spalle, il momento peggiore lo stiamo vivendo adesso e ci accorgeremo dei risultati di tutto quello che stiamo facendo la settimana prossima, quando cominceremo a vedere i dati dell'ondata peggiore. Prepariamoci a una Pasqua molto complessa e molto difficile, prepariamoci anche al fatto che le strutture pubbliche non potranno essere più efficienti come lo sono adesso.